Dal 18 maggio riaprono negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, estetiste. Il pressing che abbiamo fatto in queste settimane sul governo ha portato i suoi frutti. Però non possiamo fermarci qui, dobbiamo andare oltre. Le linee guida presentate dall'Inel, appunto su bar, ristoranti e strutture balneari, oggi sono troppo stringenti. Al governo chiediamo di rivederli. Servono regole di buon senso, necessarie per far ripartire la nostra Italia.